numero 18 Rosita Belviso numero 18 Rosita Belviso numero 19 è partita la 20 non fa niente è partita la 20 Sabrina Petroni vai 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 con la numero 19 lei è Carmen Barone eccola qui la numero 21 lei è giamaica adornato con la numero 22 lei è Rita De Caro la numero 23 Antonella Maffei numero 24 Rosmara Bisentini numero 25 Simona Sampognaro Simona Sampognaro numero 26 Henry Lorusso Miss Ragazza per il Sud Città di Bari Salone delle Feste del Vittorio del Vittorio Parco Hotel se la giudica Maria delle Foglie passeremo per Maria delle Foglie di Sampognaro Grazie. Grazie.